le note del silenzio lo ritroverete ispirato da questo libro allora dicevo più che altro l'ho trovato e ho deciso che vi toglie l'argomento anche per l'argomento l'argomento lo metterò allora ecco ci starebbe bene un inaudible che è un problema da tantissimo tempo troppo troppo le pare troppo presto troppo purtroppo è arrivato molto in ritardo ciò deve arrivare in ritardo e quindi noi lo aspettiamo avrei voluto che questo vediamo sicuro è del del microfono ma purtroppo non è così non so non so non so non so non so non so è è che non so non so Sì, sì, sì. ho trovato l'arriero decidi liberi parire sopra l'arriero anche il prorogo al topo saltiamo il prorogo tiriamo tiriamo il star parco al mare stretto ombricandosi di continuo la nave era piccola il suo capire davvero minuscolo il capitano aveva comunque proibito di salire in coperta l'arriero del ponte che afferdeva sotto i suoi piedi gli faceva piacere le piacere il cibo come detto aveva un gusto ancora più schifo di quello in cerito ma che bisognava in fondo il limonzo salato un po' limonzo d'oro e parevano regalmente vero in quanto potevano trarsi esclusivamente divino un mio rosso sparo molto forte un po' domanda che anche quello ma la scorta era risaurabile divino a pieno al mondo un bucone anteriori allo scuolo della cabina allora il suo padre gli pregoni non erano mai serviti a niente ma che importanza fa più suo padre era morto lo aveva ucciso lui un tardo di palestra nel ventre ma signore l'unico tardo tutto per te se solo avessi avuto maggiore destrezza te lo avrei piantato e in quel tuo coso con il quale mi aveva generato schiavato un mastardo sotto coperno non esisteva notte e non esisteva giorni di riame teneva il conto del tempo angolandosi sul paio i piani del mezzo che gli portava in gioco che lui non mangiò il ragazzo portava sempre anche secchio e spazzola pronto a pulire e fino a tornare di riona gli chiese a uno dei suoi passaggi stampando l'ennesimo o tre fa venire una certa serpe che conosco un personaggio o meno fino a quando gli è crollata addosso una montagna il muzzo corrisponde era brutto un pregunto decisamente più attraente di un certo umano col solo mezzo naso e una cicatrice che andava dall'occhio al mento di un poverso che si è rinargato mentre trovinava gli azzi ti è stato ordinato di non parlarmi o magari un anno si è chiamato tua madre nessuna risposta di più o meno verso dove stiamo facendo rutto ce l'aveva menzionato le città libere ma non aveva mai detto quale bravo sentirò A.P.: Mir di Ariana avrebbe detto che non avrebbe dovuto andare attorno Miragella ha più anni di don secondo la legge d'Urmiana il trono di spade appartiene a te ti aiuterò a far valere i suoi diritti come mi suggerì il principe omolo quanti omori nellamore e la testa sottonopoli di la borbore del pugno corazzato di sergne e corclegne alla montagna che cavalca e senza più la vibra rossa eserce da repressione su di lui il principe d'oro Marten, signor di torne, avrebbe mai preso in considerazione un simile rischioso intrigo potrebbe invece spattermi e consegnarmi alla mia dolce sorellina Cersei un luogo più sicuro sarebbe forse stata la paliera il lord comandante Jauron Mormont, il vecchio lord un dame gli aveva detto che un uomo come lui sarebbe stato un valido aborto a guardare la notte però anche Mormont potrebbe essere morto magari la tumore lord comandante è Jauron Asseline e quel figlio di un beccaio non avrebbe di certo dimenticato chi l'aveva amandato su quella muraglia di ghiaccio e gli anni mi accompagnati a provassare tra tutti i giorni e mangiare carne salata e pollici con un branco di ladri e sassine peraltro il resto dei due giorni non sarebbe comunque durato a lungo di questo te ne sarebbe occupato Jauron Asseline il mozzo inverso la spazzola dell'acqua che continuò a trovinare Jauron Asseline Jauron non riusciva a ricordare come si diceva mentre che Valeriano in ogni caso era troppo tardi il mozzo oggetto la brusca nel segno e se ne ha il primo mio addormentito il giro bello di Riano aveva imparato a leggere l'alto Valeriano seduto sulle ginocchia del suo maestro nella grande rocca della mister a Castelgrotto l'alto Valeriano si parla ora delle nove città di verrebbe che non era più nemmeno un dialetto ma nuovi dialetti destinati a diventare altre molte linguaggi il di Riano aveva un'infarnatura di profusiano e masticava qualche parola di Mariano per loro torne parla nella lingua dei sette a Regni come diceva torneano la legge torneano in che la lingua torneano era piena degli aspetti dell'antico Regno e dell'Arenone però comunque comprensibile sì, torne il posto che è davvero ritroccionato la cucciata che avranno sacco il pensiero come una bambina alla propria bambola di pezza adesso vi piaceremo anche l'altro in spada l'altro è il quinto libro non so quanti libri ci siano creati io non li ho mai letti, ho guardato le serie tv e a parte la prima che trovo veramente troppo cruenta e penso che la vita sia già abbastanza cruenta no, non bisogna guardare le serie tv così forti quelle successive mi sono piaciute per i loro intri anche i personaggi e il personaggio che mi piace di più da i neri stargare e non mi piace molto Jon Snow una cosa che invece piace tantissime persone è un personaggio preferito di molti non il mio però è una serie che nonostante mi piaccia è una serie che mi ha appassionata fortemente sì, mi piace però posso fare a meno di sapere come va a finire però non la disdegno e anche qui nel libro che non avevo mai aperto perché non è mio ho trovato un po' di parolacce che non ho detto leggendole li ho sostituite con un'altra parola ma tanto questo è l'odipol quindi non importa molto mi avete chiesto molto spesso un video inodipol e lo faccio molto raramente perché veramente fare un video inodipol è fastidioso dal punto di vista proprio dell'aria perché non si riesce veramente a respirare e quindi può essere molto fastidioso però sto resistendo anche molto penso siano passati a almeno 10 minuti 10-11 minuti io adoro l'inodipol il mio video preferito inodipol è un video di Chiara ASMR questo video di Chiara è un video nella quale legge anche lei un libro un libro di una femminista una ragazza troppo forte che si chiama G-Modder su anche su anche su su Instagram è un libro che ancora non ho preso ma comunque la seguo sempre e mi piace tantissimo tantissimo davvero non ciò starete capendo quello che sto dicendo tutto meno se siete interessati a ciò che sto dicendo perché l'importante è che vi rilassiate ora direi che è il momento di salutarci e quindi guardiamo il prossimo video buon prossimo video